se ti hai filmato come hai indito? no vanti quei discorsi qua eh un pochista 100% SEDATELO non lo dico non lo dico non lo dico il bicchiere è mio? non lo dico il mio bicchiere è qua eh in questo? che si deve fare? in questo non lo dico 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 cosa dici cochi? bello oro cosa dici per il muro? buah, hai trovato il video hai dei miei corona dei miei corona? basta la parola cofi il ballerino della notte anche per gli amici passava a Censi sempre con bicchiera piena occhi spenti era lui passava da ragazzo di bubola eccola si vedeva si metteva il maglioncino passava ancora a Censi mangiava la patatina mangia la patatina